Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, seduta d'aula interrotta e lavori rinviati a Palazzo Cesaroni per mancanza del numero legale. Ce ne sospesi e seduta giornata per l'Assemblea Legislativa dell'Umbria, che a causa dell'assenza del numero legale è stata riconvocata per la prossima settimana senza aver affrontato nessuno degli argomenti all'ordine del giorno. In apertura dei lavori, la Presidente Donatella Polsi ha comunicato le assenze per impegni istituzionali degli assessori Bartolini, Cecchini e Paparelli, mentre una serie di interventi di maggioranza e opposizione hanno stigmatizzato l'assenza dei componenti dell'Aggiunta regionale, rappresentata soltanto dall'assessore alla Sanità Luca Barberini. Ciò non avrebbe consentito lo svolgimento dell'emozione e delle interrogazioni question time che prevedono la risposta in aula da parte dei componenti dell'esecutivo regionale. Su impulso del capogruppo di Fratelli d'Italia, Marco Squalta, gli esponenti dell'opposizione hanno quindi lasciato l'aula, portando alla sospensione dei lavori. In seguito i consiglieri di Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Ricci, Presidente e Lega Nord hanno convocato una conferenza stampa all'interno dell'aula consigliare per spiegare il motivo dell'abbandono dei lavori ed annunciare l'intenzione di non garantire più con la propria presenza la permanenza del numero legale nell'Assemblea legislativa. Via libera dalla seconda commissione al disegno di legge della Giunta regionale per la conclusione della ricostruzione legata al sisma del 1997 e precedenti. Vediamo. Con se voti favorevoli, 5 dei commissari di maggioranza, Brega, Casciari, Chiacchieroni, Smacchi del Partito Democratico, oltre a Ricci, Ricci, Presidente, e l'assenzione di Liberati, Movimento 5 Stelle, la seconda commissione presieduta da Eros Brega ha dato il via libera al disegno di legge ed iniziativa della Giunta regionale, che detta norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma 1997 e precedenti, nel quale sono state accolte numerose proposte dei sindaci territorialmente interessati. Votati all'unanimità due ordini del giorno che verranno presentati in aula. Il primo prevede la riparametrazione del contributo in concessione per i nuovi edifici legato al più recente preziario regionale e non a quello 2001. L'altro impegna la Giunta regionale ad intervenire presso il Governo nazionale per il riconoscimento degli stessi requisiti previsti per l'Aquila contenuti nel decreto legge concerne gli ultimi eventi sismici del 2016, per quanto attiene agli aggravamenti prodotti dal sisma del 24 agosto e seguenti rispetto ad edifici di fascia G e N, la cui ricostruzione non è stata iniziata o completata. L'iniziativa legislativa mira a regolamentare la risoluzione delle problematiche che impediscono una celere conclusione della ricostruzione post-sisma 1997, quali il mancato inizio dei lavori, la fine dei lavori oltre i termini, la revoca dei contributi, le azioni sostitutive, la conclusione dei controlli esercitati dalla Regione per interventi privati, l'attività di rendicontazione e di liquidazione dei contributi pubblici e privati da parte dei Comuni, l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili. Fanno parte del testo legislativo alcune proroghe rispetto al completamento di procedure normative da parte dei Comuni che riguardano l'omessa a presentazione del progetto degli interventi, l'integrazione documentale, l'inizio e ultimazione dei lavori, l'attività di controllo sugli interventi dei privati, la programmazione e la rendicontazione delle opere pubbliche, per quanto attiene ai Comuni interessati dalla crisi sismica iniziata lo scorso 24 agosto, la Giunta regionale con proprio atto da trasmettere alla seconda commissione consigliare può concedere una proroga ulteriore per un massimo di 120 giorni. In merito all'inchiesta sulla società Gesenu, il gruppo consigliare della Lega Nord ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni per sottolineare che emergono intrecci legati alla non gestione del ciclo dei rifiuti con fondi pubblici erogati ai Comuni e alle aziende senza che gli obiettivi indicati dalla Regione venissero raggiunti. Secondo i consiglieri regionali Manuele Fiorini e Valerio Mancini è necessario che il tavolo tecnico previsto dopo la fine dei lavori della commissione di inchiesta venga nuovamente convocato, mentre è evidente che i treati Umbri hanno fallito, hanno detto, nonostante i milioni di euro di finanziamenti assegnati affinché gli obiettivi venissero raggiunti. Audizione in terza commissione per la valutazione delle criticità proposte e contributi per il nuovo piano sanitario regionale. Paolo Giovagnoni. Il piano sanitario deve essere condiviso da chi lavora negli ospedali, altrimenti sarà il solito documento programmatico lontano dalla realtà di ogni giorno e dai problemi dei pazienti. Nessuno ci viene a chiedere come funzionano le cose sul campo. Le organizzazioni sindacali dei medici e le associazioni degli utenti devono essere coinvolte. Queste alcune considerazioni espresse da medici e rappresentanti di varie associazioni nell'audizione convocata dalla terza commissione consigliare presieduta da Tilio Solinas. Le liste d'attesa sono il problema maggiore, inutile negarlo, ma la Regione deve dire chiaramente se l'orientamento è spingere il cittadino verso il privato. Il costo del ticket praticato nelle strutture private è ormai molto vicino a quello pubblico, solo che da un privato si va dopo una settimana, nel pubblico ci vogliono i mesi. La politica è riuscita a mettere il medico contro l'utente. Per quanto riguarda i posti letto siamo fra gli ultimi. Doveva essere costruita l'alternativa sul territorio, ma nella realtà non c'è una struttura che fa da filtro sugli ospedali perché non ci sono stati adeguati investimenti e dopo la cuzie mancano le strutture per continuare la cura, quindi la popolazione va in ospedale dove però mancano posti letto. Il sistema informatico è di una inefficienza devastante. Non abbiamo dati e quelli che ci sono spesso si rivelano inesatti. Quando non ci sono dati partono le ambulanze col dischetto, altro che consultazioni in rete. Il presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali Attilio Solinas, dopo l'audizione con i medici intervenuti, ha annunciato che le istanze emerse nel corso dell'incontro saranno raccolte in una proposta di risoluzione che terrà conto delle criticità emerse. Presentata a Palazzo Cesaroni nel corso di un convegno, la proposta di piano triennale delle azioni positive 2017-2019 dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Con questo atto l'amministrazione intende contribuire a realizzare condizioni di effettiva parità e pari opportunità uomo-donna nei propri uffici e servizi, rimuovendo tutti gli ostacoli, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione attraverso anche la sperimentazione di nuove forme organizzative e tempi di lavoro, in attuazione di quanto stabilito da quei principi di alta civiltà giuridica previsti dalla normativa europea e nazionale e ribaditi anche nello statuto regionale. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.